Vige una legge non scritta ma in o inderogabile nel girone H di serie D. Qualsiasi compagine si issi sulla cima della classifica ne discende d'un subito, spesso ruzzolando giù malamente. Questa norma crudele non ha risparmiato proprio nessuno e quindi anche il bitonto non vi si è potuto sottrarre, conoscendo così la sua mesta caporetto in quel di Sorrento. Mister Claudio De Luca fa tornare i suoi uomini più per disegni tattici che per le prestazioni, in verità tutt'altro che insoddisfacenti, offerte dai ragazzi fatti accomodare in panca. Così ripresenta fra i pali l'onoce, esibizione bifronte per lui, fra prodigi e cappellate, sistema al centro della difesa petta e lanzolla, insolitamente friabili, sulle fasce un irriconoscibile turitto e radicchio un poco pavido. Tocca a Manze Piarulli rammendare trame spesso cenciose, a sostegno di Santoro, un evanescente Taurino, un generoso Riccardi e un lodevole Lattanzio, capitano vero che solo ha ceduto le armi per ultimo. Renato Cioffi rischia la carta della giovinezza dietro, fra il 2004 del sorbo in porta, il furmò maggiorenne Manco a sinistra e gli adolescenti Virgilio e Selvaggio nel mezzo. Davanti si fida del mestiere dei veterani Ripa, Gargiulo e Tedesco, ex ancora stimato all'ombra del Torrione. Si parte e già le avvisaglie non lasciano presagire nulla di buono, prodezza di Lonoce su inzuccata di Manzi dopo 120 secondi. Minuto 10, vantaggio del Sorrento, col tappi incomodo di Gargiulo dopo il guizzo miracoloso ma inutile di Lonoce sulla conclusione ravvicinata di Selvaggio. Buona la manovra ma zero concretezza, ergo Afono e il rugito dei Leoncelli che ci provano con un destro dai 25 metri di Manzo che del sorbo blocca senza patemi. Un quarto d'ora e ritenta Riccardi con una sventola da lontano, l'estremo di casa smanaccia in angolo. Al 38esimo cross calibrato di Santoro, stop di petto e botta di controbalzo di Lattanzio. A gamba levata e disperata salva Rizzi. Allo scadere timida carezza di Piarulli, decisamente troppo poco, ma ancora nulla in confronto a quel che accadrà dopo l'intervallo. Più veloce delle lancette ancora impegnate nel primo giro è il raddoppio campano. Lancio chilometrico per tedesco, dribbling a rientrare di possesso e mancino chirurgico nell'angolo. Non esulta il talento partenopio per rispetto, gesto per solito retorico, stavolta sincero. Al decimo, piazzato di Dan, fa suo il cuoio del sorbo con sicurezza. Quarto d'ora, lezione di geometria. Suggerimento soave di Manzo per Lattanzio, che uncina la sfera e mette il cuore dell'aria, dove petta in sacca rabbioso. Sembra l'incipit della riscossa, sarà la pietra tombale del match, perché i rossoneri in tre minuti umiliano i neroverdi. Al 35esimo, uscita scellerata di Lonoce, su una palla tutt'altro che minacciosa, e gol di Virgilio a porta spalancata. Tre minuti dopo, Cassata, ubriaca chiunque in area, bagger imbarazzante di Lonoce e rovesciata di Ripa, che griffa il definitivo 4-1. Il fragile destro del fantasista Tarantino, abilmente scovato da Biasoni in pieno recupero, è il segno della resa dei bitontini, che hanno il dovere di riscattarsi, a cominciare dal prossimo derby col Molfetta.